Anche la rete delle cure palliative si è adattata all'emergenza coronavirus, lo raccontano gli operatori in un breve video di tre minuti realizzato dagli amici dell'Hospice di Borgonovo in occasione della giornata delle cure palliative 2020. Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, i volontari dell'associazione nata a sostegno dell'Hospice di Borgonovo non potranno organizzare il momento celebrativo nel giardino interno, la casa protetta. In compenso hanno finanziato un breve filmato realizzato da Terra Trema Film, in cui i responsabili della struttura raccontano di come l'Hospice di Borgonovo e l'equip che vi lavora abbia saputo riorganizzarsi, decidendo ad esempio di accogliere pazienti affetti da Covid, a cui sono state dedicate due camere aggiuntive, dando dimostrazione di come la rete di cure palliative riesca ad adattarsi ad ogni tipo di emergenza. La nostra struttura, come tante altre, ha dovuto affrontare in questo periodo l'emergenza Covid, che ci ha posto subito di fronte ad una decisione molto delicata. Se accettare pazienti positivi o chiudere l'Hospice, abbiamo preso queste decisioni di accettarli, aprendo due stanze in più nel nostro reparto e creando un isolamento di corte su altre due stanze. In pochissimi giorni siamo riusciti ad incrementare il numero di posti letto e quindi ad accogliere più pazienti. Al grande lavoro degli operatori si è affiancato quello dei volontari dell'Associazione Amici dell'Hospice. Abbiamo comunque cercato di far sentire la nostra vicinanza agli operatori, dando supporto ad esempio nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo scoperto una nuova umanità, una unione tra gli operatori e una solidarietà con le famiglie che ci porteremo sempre nel cuore. Questo ha reso possibile la comunicazione tra i pazienti e i loro cari. Questo è sollievo alla sofferenza. a